Salve popolo dell'MMA, ieri è arrivata la vittoria di Volkanovski in un incontro spettacolare contro Ortega, non sono mancati ovviamente i tweet di Conor che commenta la prestazione di Volkanovski, dopo l'australiano dice di essere pronto ad affrontare Conor, sentiamo a che condizioni, ovviamente è molto aperto perché quando si parla di Conor si parla di molti soldi in pagno. Grazie. 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 Giuseppe e Max. Yeah, that would've stung him a little bit. That would've stung him a little bit. Especially while he's on the piss, you know? So, you know, anyway. I'm gonna be on the piss. Maybe you'll see some weird fucking tweets from me too. We'll see what happens.